Gli aggiornamenti del resoconto di oggi riguardano la direzione di Kursk. Qui, dopo più di un mese passato ad accumulare forze addizionali dopo il primo contrattacco, i russi hanno deciso di attaccare nuovamente le posizioni ucraine, penetrando questa volta nel fianco ovest per 10 km. Il comando ucraine, capendo la pericolosità di uno sfondamento russo a Kursk, ha ordinato una serie di contrattacchi per distruggere le forze russe che si erano sovrastese, eliminando più di 5 km di questo sfondamento. Dopo aver ripreso il controllo di Snagost delle zone circostanti, l'elemento sorpresa è svanito, portando le forze russe a rinforzarsi per una seconda ondata di contrattacchi. Il comando russo ha aumentato il numero di soldati nella regione da 30.000 a 50.000. Questo significativo aumento cambierà le dinamiche degli scontri a Kursk, in quanto sono ora i russi a superare in numero gli ucraini. Questi rinforzi sono stati possibili spostando unità da Kupiansk, Chazivyar, Toresk e altre aree, il che ha indebolito le offensive in quelle zone. Avendo ora abbastanza truppe, i russi hanno concentrato la loro offensiva a Kursk, schierando colonne corazzate lungo l'autostrada Correunovo-Suzha verso Zelenshliak. Questo insediamento sta alla base di un'intersezione vitale per la logistica okreina verso Lyubimovka, Tolstilug e Novo Ivanovka. Mettere in sicurezza sia il villaggio che l'intersezione permetterebbe ai russi di attaccare le forze ucraine semiaccerchiate di questi villaggi o almeno costringerle alla ritirata. Le forze russe hanno deciso di avanzare direttamente lungo l'autostrada in quanto la linea del fronte nell'aria non è ben definita. Le forze ucraine hanno concentrato le proprie difese in città piuttosto che nei campi aperti, dove trincee e fortificazioni non sono state costruite per difese continuate. I video dei combattimenti mostrano la colonna russa che era composta da più di 30 veicoli ed è avanzata senza opposizione. Sono quindi avanzati velocemente catturato Zelenshliak e l'intersezione. Secondo i rapporti degli ufficiali ucraini però ciò è avvenuto a un gran costo, in quanto hanno confermato che metà della colonna è stata distrutta durante l'assalto. Il video completo è disponibile sul nostro telegram, il link è nel messaggio in evidenza. A peggiorare la situazione, l'avanzata russa di 10 km ha superato le principali difese ucraine e ha raggiunto le retrovie dell'intersezione dove erano stazionati gli operatori dronici ucraini, di cui 9 sono stati fatti prigionieri, non essendosi accorti dell'avanzata nella loro direzione. Le forze russe hanno ripreso una grossa porzione dell'autostrada Core Novo Suja insieme a Zelenshliak, Novo Ivanivka e metà di Leonidovo. Nonostante siano avanzati i 10 km però hanno allungato le loro linee per quasi 30 km mettendosi in una situazione precaria. Questa avanzata ha infatti creato un calderone, essendoci truppo creane posizionate al Govka e Mativka a nord e a Lumiubovka a sud. Subito dopo lo sfondamento russo le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco riprendendo Leonidovo e Novo Ivanivka, riducendoli 5 km l'avanzata russa. Questo dimostra che gli ucraine hanno ancora le loro capacità offensive nonostante i pesanti assalti russi, mentre di contro le forze russe hanno subito significative perdite e non sono riuscite a mantenere le posizioni ucraturate. Le forze ucraine al Govka, Mativka e Lyubimovka invece hanno subito danni leggeri e possono bersagliare l'ortostrada che rifornisce Zeleni Slyak. Con nessuna rivoluzione in vista, le forze russe sono a rischio di essere accerchiate, eliminate e di vedere i propri fianchi collassare. In generale le forze ucraine sono riuscite a contenere le offensive ad Archiv, Chasiviar, Toresk e altri fronti, costringendo le forze russe a rischierare più di 50.000 soldati a Kursk. In particolare, secondo i soldati ucraine, Chasiviar poteva tenere solo fino alla fine dell'estate, ma l'operazione a Kursk ha fermato le avanzate in questa direzione per più di tre mesi. E mentre a Kursk i progressi russi sono significativi, si sono sovrestesi, mettendosi in una posizione vulnerabile e controattacchi ucraine che potrebbero respingerli. Futuri sviluppi dipendono dall'abilità russa di stabilizzare i fianchi e ripinguare le perdite, mentre l'Ukraine deve mettere in sicurezza le linee di rifornimento verso le città nord e sud dell'avanzata russa per continuare i loro contrattacchi. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.